Liga, 6 giornata. Siviglia nella nuova casa dell'Atletico, derby catalano per il Bara. . Sesta giornata del campionato spagnolo, al Vanda metropolitano di Madrid, per decretare quale sia il primo rivale del Bara in questo inizio di stagione. Blaugrana ancora a punteggio pieno, con possibilità di allungare ulteriormente, impegnati sul campo del Girona, in un derby catalano sulla carta a senso unico. . 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 Liga, Athletic Bilbao. La vera delusione della prima fase di Liga è il Malaga, a zero punti in classifica e strapazzato, 5-0, al Mestalla di Valencia. Gli andalusi proveranno a trovare un risultato utile contro un Athletic reduce da due sconfitte consecutive e fermo a sette punti a metà classifica. Malaga senza Javi Ontiveros, con Juancar più avanzato, baschi che potrebbero fare a meno di Aduriz, rigore sbagliato contro l'Atletico, con l'inserimento di Susa Eta nelle tre mezze punte. Derby tutto catalano a Girona, dove i padroni di casa, a 5 punti in classifica, proveranno a difendersi dalla marea montante del Barcellona. 5-3-2, con Stuami e Porto di punta, contro i Blaugrana di un favoloso Leo Messi, già a quota 9 centri in Liga. L'infortunio di Dembélé lancia ancora Gerard Eulofeu, mentre il resto della formazione dovrebbe essere quella tipo, rientrano Iniesta e Rakitic, nonostante l'incombente trasferta di Lisbona in Champions League. Espanol, Deportivo La Coruna. 5-4 punti in classifica per le compagine di Quique Sanchez Flores e Pepe Mella, reduci da risultati positivi nel turno infrasettimanale. Al Cornella e al Prat, l'Espanyol conferma il duo d'attacco Leo Baptista o Gerard Moreno, con Piatti e Jurado sugli esterni. Galiziani ancora con Lucas Perez nuovo partner di Andone, i Valverde novità sulla banda a sinistra. La rimonta prepotente del Villarreal si è arrestata al Madrigal contro l'Espanyol, ma deve ripartire dal Coliseum Alfonso Perez con il Getafe. Fran Escriba conferma la BBC Amarillo, con Bacambu, Bacca e Castilleggio di punta, mentre dall'altra parte i padroni di casa, neopromossi, stanno reggendo l'impatto con la Liga, con 5 punti in altrettante giornate, decisivo Angel nei minuti finali della sfida del Balaidos di Vigo. Eibar, Celta Vigo. In difficoltà il Celta Dunque, ha soli 4 punti e quartultimi in classifica. Aipur e Galiziani vanno a caccia della seconda vittoria in Liga, con Maxi Gomez unica nota lieta del loro campionato. Riecco Sisto e Giozzabed, con Aspas confermato decentrato. Baschi di Mendilibar sostanzialmente in formazione tipo, ansiosi di dimenticare la scoppola subita al Camp Nou. Las Palmas, Leganes. Due squadre a metà classifica si affrontano al Gran Canaria. Isolani reduci dal K o del Sanchez Pizziuan, con Tana favorito su Alilovic e Remi Subitolo. Ospiti di Garitano che hanno mosso la classifica con uno scialbo 0-0 casalingo contro il Girona. Real Sociedad, Valencia. Il posticipo domenicale offre agli appassionati uno dei match più interessanti dell'intera giornata. Alla no etalare al Sociedad di Eusebio Sacristán deve rialzare la testa dopo i K o con Real Madrid Levante, mentre il Valencia di Marcellino ha intenzione di continuare nella sua marcia da imbattuto. Emergenza difensiva per i Baschi, con il Larramendi che potrebbe arretrare come centrale per la squalifica di Diego Lorente, Zubelga al suo posto a centrocampo, mentre gli ospiti presentano Santi Mina vicino alla scatenato Zanza. Guedesse e Gabriele in rampa di Lancia rispetto a Lato e Murillo. Bete e Siviglia, Levante. Due delle sorprese della Liga settembrina si sfidano al Benito Villamarino. . .